Strepitoso successo della Marathon del Vulture MTB organizzata da Lucidirio Nero e il Velleocifero presieduta da Claudio Lapolla. Hanno partecipato le più quotate società sportive italiane dalla Rockabite alla Pit Stop Racing Team, alla Team Aerocall Tutto Bici Romane, un New Cycling Team, All Bike Ruvo di Puglia, Chiala Cycling Team Locorotondo, Pedale Massafra, Team Preview 6 Sport, Città degli Imperiali, San Michele di Bari, New Bike Country, la ciclistica Bernolese. La Marathon ha previsto un giro di oltre 50 km partendo dai laghi di Monticchio, effettuando un ampio giro e poi proseguendo per il Monte Vulture. All'interno un percorso di media fondo di 22 km, impeccabile organizzazione dell'UCT Rio Nero e il Velleocifero che ha permesso ai bikers di percorrere il tracciato senza trovare problemi. La dinamica della gara è stata divisa in due tempi, un primo momento c'erano ben 7 bikers nel gruppo di testa che si condettevano il primato. Società molto competitive non hanno consentito durante la gara un distacco netto tra il gruppo di testa e il gruppone. A metà gara tutti i bikers hanno mantenuto un ritmo costante, ma dopo i 25 km Di Lorenzo ha cercato di incrementare il suo ritmo rispetto ai concorrenti e a garanciare con una velocità sostenuta fino al traguardo. Sia la Gran Fonto che la Media Fonto sono state impegnative. Salite pendenti hanno messo in piena prove i bikers e anche le discese. Sono risultate molto ripide per la tenuta della gara. Anche per la Media Fonto i bikers hanno attraversato le bellezze naturalistiche del paesaggio verdeggiante del Vulture. La dinamica è stata la stessa con salite pendenti e discese ripide. I bikers hanno dovuto attraversare anche molte saette e montane respirando il profumo del Vulture. Pasquale Di Lorenzo ha vinto la Marathon del Vulture della Rocca Bait con un tempo di 2 ore e 31 minuti e 29 secondi. Di Lorenzo ha saputo gestire bene la gara analizzando anche le tattiche dei suoi competitor. Seconda posizione per Francesco Ceccarelli di Rocca Bait che è riuscito a mantenere il ritmo rispetto a Di Lorenzo e i suoi competitor. Ottima la sua prestazione. All'inizio Pasquale Di Lorenzo aveva intuito la qualità delle società partecipanti ponente il problema di come impostare la gara. Alla fine ci è riuscito ad essere leader al traguardo insieme al suo compagno di squadra Ceccarelli. Terza posizione per Pasquale Silica della Pit Stop Racing Team che ha eseguito un'ottima prestazione riuscendo a gestire il suo ritmo soprattutto nel finale. Da mettere in evidenza nella gara le ottime posizioni di Mara Parisi della OCD Rio Nero il Velocifero e Ventricelli Grazia della Freedom Cycling Team. Gli altri concorrenti maschili dopo Sirica Nicola Pugliese della Team Eracol, Striano Alfonso della Pit Stop Racing Team, Romano Diego dei Tutto Bici Romano, Sabo D'Antonio della Ciclopicentia, Guadagno Paolo della New Cycling Team, Dovito Paolo della New Cycling Team e al decimo posto Ligi Caputti All Bike Ruvo di Puglia. Per quanto riguarda invece la media a fondo vittoria da parte di Samuele Clementi della Serie A10 Bike Melfi, grande prestazione la sua sul Vulture. Seconda posizione per Egidio Lardo della Serino Bike che è riuscita ad essere costante sul tracciato rimanendo inalterata la distanza. Ottima prestazione di Andrea Rizzo, team a Orispa che ha saputo ben controllare la sua posizione rispetto ai primi due classificati. A fine gara ampie la premiazione che ha visto protagonista sia i buggers della media a fondo che i buggers della gran fondo. Premiazione con pacchi gara, vino e prodotti tipici premiati anche le donne e i giovani partecipanti. Durante e dopo la premiazione pasta party con cavatello con pomodoro infornato e rucola, secondo capicollo al forno con contorno di patate, alla fine frutta e torta. Grazie a tutti!